Che parete? Su quelle placonate lì Con quei ferretti sono incredibili, la crudezza della roccia si contrappone alla bellezza della fioritura. Questa è la cianza di rica bassoca. grazie 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 facciamo no è di là a destra è di là verso la nord si può trasformare pure in un binocolo fatti meglio il sasso è piatto in Trentino e poi io dove me la trovo cos'è? Torino no no 9 anni si va alla prossima non 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 non